forse ragazzi si gira gettonatevi alle piste partiamo ancora con i personaggi da palestra lo stiloso apple watch tiene il tempo tutto vestito perfettino occhialata tattica poi arriva la sua controparte lo straccione eccolo indumenti pescati alla cieca dall'armadio ragazzi lo straccione è lo dovete identificare voi insomma io per esempio molte volte in palestra sono sicuramente lo straccione ma ecco ma ecco il cinturone quello che non la molla mai proprio oppure quando è sulla cyclette tutto fiero chissà seppure quando fa la doccia tiene sulla cintura ecco poi c'è lui l'inquisitore guarda da lontano i nuovi iscritti poi se per sbaglio qualcuno pesa qualche chilo in più di lui comincia il radar e poi parte la sentenza ci siamo ragazzi quello la secondo me prende qualcosa e ovviamente anche lui ha la sua controparte il bombatone quello pieno lo sanno tutti e lui non si fa problemi a parlare di bombe